Tanto tuonò che piove. Stavolta sembra che le previsioni abbiano fatto centro. Da ieri si parlava infatti di una perturbazione che avrebbe preceduto il caldo di Ferragusto e così è stato. L'allerta meteo aveva fatto infatti chiaramente cenno al maltempo che dal centro nord si sarebbe spostato verso sud. L'isola Dischia si è così svegliata sotto un temporale non proprio inaspettato, ma ormai quasi nessuno più ci credeva. La calura estiva di questi giorni è stata quindi interrotta dal maltempo, con nuvoloni minacciosi, tuoni e pioggia che è venuta giù, come si dice, a catinelle. Le temperature sono diminuite un po' dovunque, ma ad accompagnare l'acqua c'era anche il vento che sversava impetuoso piegando gli ombrelli fino a renderli inservibili. A largo dell'isola ha fatto la sua apparizione minacciosa un tornado e le immagini hanno fatto il giro del web. E come sempre, vuoi anche per la mancata manutenzione delle caditoie, ancora tutte intasate da rifiuti e da agli di pino, le strade isolane si sono trasformate in veri e propri fiumi, rendendo impossibile il passaggio dei pedoni fin anche sui marciapiedi, portandosi dietro con sé di tutto. In alcuni punti è stato difficile anche il transito veicolare. Un vero e proprio fiume in pieno è sceso dalle zone alte dell'isola, da Serrara Fontana verso Ischia. Qua e là, lungo l'asse viario e non solo, laghi di acqua piovana che hanno allagato le strade, nei soliti punti già noti tra Forio, Lacco e Casamicciola. L'acquazzone ha avuto delle ripercussioni anche sul traffico veicolare, strade del centro ma non solo, intasate di auto, mentre le spiagge oggi hanno avuto una giornata di riposo. Nessuna ripercussione per collegamenti marittimi, nonostante il mare mosso, non si sono registrate soppressioni di corse di aliscafo. La mattinata è venuta avanti con un alternarsi di piccole schiarite e tanta pioggia, ma c'è poco da allarmarsi. Per chi temesse il perdurare di queste pessime condizioni del tempo, può stare tranquillo. Le previsioni annunciano un graduale miglioramento del tempo, che dovrebbe riportarci all'estate interrotta per qualche ora di questa giornata uggiosa dai toni e contorni autunnali. Una situazione, dicono i meteorologi, è destinata infatti a migliorare molto velocemente già da venerdì e nel fine settimana. Il secondo weekend di agosto dovrebbe trascorrere all'insegna del bel tempo. L'alta pressione tornerà a prendere il sopravvento con sole prevalente e temperature in rialzo. La tendenza di ferragosto confermata una giornata ferragostana all'insegna del meteo estivo da nord a sud.